Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Tee ed oggi siamo tornati sulle teorie di Five Nights at Freddy's Oggi faremo la prima teoria che risolve tutta quanta la storia di Five Nights at Freddy's Allora questa teoria si sta diffondendo molto velocemente infatti una di quelle più gettonate al momento Che è quella che tutto il gioco sia effettivamente solamente il sogno del bambino di Five Nights at Freddy's 4 Con tutto il gioco intendo proprio tutti e quattro i giochi Infatti come abbiamo fatto la teoria io e Sakini sui Nightmare animatronici Il discorso potrebbe un po' diciamo espandersi anche sugli altri giochi Allora in questa teoria prenderemo la timeline di Five Nights at Freddy's 4 come effettivamente l'ultimo gioco E vi spiegherò dopo il perché Allora in Five Nights at Freddy's 1 abbiamo i quattro animatronici classici e simpatici Sappiamo Bonnie, Chica, Foxy e Golden Freddy E anche Freddy normale ovviamente Allora sono i personaggi che alla fine sono diventati le icone di Five Nights at Freddy's Di tutti e quattro i giochi E la spiegazione della loro esistenza è il fatto che effettivamente il bambino possiede nella sua camera Come possiamo vedere i peluche degli animatronici Che non provengono dal Fredbear Family Diner Come poi abbiamo visto che il bambino andrà in questo ristorante Bensì sono dei gadget che vendevano per lo show Fredbear and Friends Secondo me Quindi questi peluche sono amici suoi Ma come sappiamo dal minigame della notte 6 Poi dopo l'incidente lui non crede più tanto nell'innocenza e nell'amicizia di questi peluche Per cui inizia a vederli come dei nemici E da qua viene fuori Five Nights at Freddy's 1 Foxy è nel Pirate Cove out of order Perché come possiamo vedere il suo peluche non ha la testa E quindi per questo motivo lo ha messo mezzo rotto nell'out of order Inoltre ci si può ispirare al jumpscare di Foxy Infatti come sappiamo il fratello del bambino di Five Nights at Freddy's 4 si nasconde E poi sbuca fuori per spaventarci Come infatti succede anche in Five Nights at Freddy's 1 Con il jumpscare di Foxy che viene da dietro la porta diciamo Un po' per fare cucù Adesso questo era quello che era il discorso diciamo Per i quattro animatronici principali Adesso Golden Freddy Golden Freddy come sappiamo è questo peluche a cui il bambino è molto affezionato E anche Golden Freddy qui in Five Nights at Freddy's 1 fa il suo jumpscare Come in realtà anche in Five Nights at Freddy's 2 e in Five Nights at Freddy's 4 In Five Nights at Freddy's 3 ci arriveremo più tardi però adesso parliamo del primo Allora In questo gioco Golden Freddy appare e scompare Come un po' si può vedere nei minigames di Five Nights at Freddy's 4 Poi Golden Freddy quando appare nell'ufficio resta là Come un po' succede anche nei minigames di Five Nights at Freddy's 4 Questo perché Golden Freddy era un peluche insomma non poteva fare molte azioni Il jumpscare di Golden Freddy alla fine ci viene anche offerto nella notte 7 Mettiamo il codice 1987 che come sappiamo è essere il morso dell'87 Insomma l'evento che ha scatenato tutto il casino Quindi anche diciamo il comportamento di Golden Freddy è stato spiegato Grazie ai minigames di Five Nights at Freddy's 4 Adesso si passa a Five Nights at Freddy's 2 Che è un po' il gioco che fa partire tutti quanti i giochi Perché in Five Nights at Freddy's 2 si possono vedere sia i toy che i Withered E anche gli shadow che sono insomma tre classi diverse diciamo di animatronici Allora I toy possiamo facilmente dedurre che sono i giocattoli che ha la bambina Che si può vedere sempre nei minigames di Five Nights at Freddy's 4 Se noi osserviamo questi giocattoli si può vedere che Toy Chica effettivamente ha il beccorotto Ed è caduto per terra un po' come succede in Five Nights at Freddy's 2 quando Toy Chica lascia lo show stage Quindi questi sono i toy tutti quanti spiegati Inoltre sono fatti di plastica Piccolo dettaglio da notare Sono fatti di plastica perché ovviamente i giocattoli saranno fatti di plastica Mentre quelli di Five Nights at Freddy's 1 si può vedere che non sono fatti di plastica Bensì in un materiale che sembra avere tipo una specie di pelliccia sopra Infatti i peluche sono morbidosi Un po', boh, capito Adesso torniamo su Five Nights at Freddy's 2 Allora Five Nights at Freddy's 2 Ci sono gli shadow Gli shadow sono anche abbastanza facili da spiegare Perché come ha lasciato l'indizio Scott Coughton Sia per il becco della piccola Toy Chica nel minigame di Five Nights at Freddy's 4 Ne ha lasciato uno anche sia per i shadow Che per il purple guy che infatti in Five Nights at Freddy's 2 compare per la prima volta Ma di lui parleremo ancora più tardi dopo aver finito tutti e tre i giochi E i quattro scusate Allora Il shadow Allora sì Infatti Scott ha lasciato l'indizio che scrive Tutto quello che viene visto nell'ombra Può venire facilmente frainteso nella mente di un bambino Questa frase significa che Come si può vedere nei minigames di Five Nights at Freddy's 4 Quando il bambino deve superare le ombre dei due animatronici sullo show stage Che erano Fredbear e Spring Bonnie Non ce la fa perché ha troppa paura E si mette a piangere sotto il tavolo Questo ci fa dedurre che lui temeva molto gli shadow animatronics E quindi compaiono infatti in Five Nights at Freddy's 2 Inoltre ci sono i Withered I Withered perché? Allora i Withered sembrerebbero quelli di Five Nights at Freddy's 1 modificati Però in realtà sono quelli originali E allora qua c'è un po' da capire perché Come sappiamo il bambino è stato nella stanza delle parts and service Però del Fredbear Family Diner Quindi non poteva sapere come effettivamente apparivano i suoi amici animatronici O peluche diciamo In versione Withered Quindi secondo me i Withered sono un po' come la storia dei Nightmare Cioè che sono sempre quelli o dello show Fredbear and Friends O i suoi peluche Però un po' mischiati all'atteggiamento malvagio Diciamo del fratello del bambino di Five Nights at Freddy's 4 E dei suoi amici Quindi secondo me mischiando sia la bontà dei suoi amici E l'amicizia Ha il comportamento malvagio Vengono un po' fuori i Withered Che sono diciamo per metà Animatronics che boom Per metà invece robot pericolosi che hanno le loro parti scoperte Quindi potrebbero insomma Danneggiare la salute di un bambino O anche di un adulto o di una persona in generale Adesso Mangle invece qua E' un discorso a parte perché Come possiamo vedere sempre nei minigames di Five Nights at Freddy's 4 Mangle appare sul pavimento distrutta In una stanza però da ragazza Quindi da qua a parte si può capire che Mangle Sembrerebbe essere una ragazza Però Il bambino quindi vede Mangle E la vede anche nel suo sogno tutta distrutta Però A questo punto c'è un'altra teoria che si collega a questa teoria Ovvero che Visto che i toy ce li ha Quella bambina l'ha E in questa stanza c'è Mangle Che fa sempre parte dei toy Secondo me questa bambina potrebbe essere la sorella Del bambino di Five Nights at Freddy's 4 Non so perché ma mi da questo presentimento qua Inoltre ragazzi adesso bisogna parlare del puppet di Balloon Boy Che sono dei personaggi da non dimenticare Allora Balloon Boy Secondo me è sempre Infatti come si vede nei minigames di Five Nights at Freddy's 4 La maggior parte degli youtubers quando Ha fatto il minigame insomma In cui puoi uscire dal ristorante per tornare a casa Ha visto questo bambino E questo bambino a tutti ha ricordato immediatamente Balloon Boy Infatti secondo me questo qua era il migliore amico Del bambino infatti di Five Nights at Freddy's 4 Perché Se no non avrebbe avuto nessuna necessità di ricordarselo nei sogni E quindi Essendo il suo migliore amico Balloon Boy come sappiamo E' l'unico che non ti attacca in Five Nights at Freddy's 2 E quindi secondo me lui lo vede per questo motivo Adesso il puppet Per il puppet c'è un po' di casino Perché Questo bambino qua non ha mai visto il puppet A meno che non sia stato nello show Fredbear and Friends Però Ci deve essere qualcosa Che collega l'esistenza del puppet Con il sogno Con il bambino di Five Nights at Freddy's 4 Infatti come sappiamo il puppet Nella teoria In una teoria che ho detto qualche tempo fa Secondo me lo spirito del puppet Era dentro l'orsetto di Fredbear Che segue il bambino per proteggerlo Però a questo punto Visto che è tutto un sogno Il bambino dovrà aver pur visto quel puppet da qualche parte Noi vediamo che Se andiamo in giro per tutti i minigames del gioco Il puppet non compare mai Mai Proprio mai Qua è un po' grave la situazione Perché L'unica ipotesi possibile E che il bambino O se lo sia immaginato completamente Che non penso sia molto possibile Perché il puppet Diciamo È un po' diverso da tutti gli altri Quindi L'unica ipotesi rimasta È che il puppet Sia stato Incluso Nello show Fredbear and Friends In qualche Che Nella pubblicità Noi non abbiamo visto completamente La pubblicità Perché era un loop Di 4 immagini Alla fine E quindi Non possiamo sapere Se c'era o no A sto punto Se Se insomma Se riesco a trovare una teoria migliore Farò una teoria a parte Solo su sto Su sto personaggio Adesso Golden Freddy Golden Freddy qui È più rovinato Però Seguendo la timeline Cioè Non la timeline Ma la successione di giochi Nel primo Five Nights at Freddy's Golden Freddy Era tutto a posto Infatti Come possiamo vedere Si ispira sempre Secondo me Al pupazzetto di Fredbear E Golden Freddy Era diciamo Visto che Non era Withered Golden Freddy Era più amico Del bambino In Five Nights at Freddy's 1 Che in Five Nights at Freddy's 2 Infatti Come avevo detto prima I Withered Secondo me Sono Withered Proprio perché Metà della loro parte è buona Metà è cattiva Perché il bambino Ha questa confusione Diciamo E questa confusione Infatti Torna alla luce qua Perché Come sappiamo Fredbear Ha fatto il morso del 87 Infatti Fredbear è un po' Golden Freddy Perché è il peluche Quindi Ci siamo capiti E quindi Per questo motivo C'è Golden Freddy Un po' rovinato Che effettivamente Questo fatto Mi aveva lasciato Un po' Sconvolto all'inizio Che prima era Perché seguendo la timeline Prima era rovinato E poi l'hanno riparato Ma con questa teoria Invece Si segue la successione Dei giochi E poi vi spiegherò Anche perché Se insomma Non ci siete arrivati già E seguendo la successione Dei giochi Invece Ha effettivamente senso L'endoscheletro Anche Non bisogna dimenticarlo Perché Sempre perché In Five Nights at Freddy's 4 Si può vedere Che il bambino È stato chiuso Nella Parts and Service room Però L'endoscheletro Insomma Non rappresenta Nessuno Dei Dei suoi amici Lo vede come nemico Perché Infatti Quando 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 il bambino È chiuso Nella stanza Della Parts and Service Dice che Ha paura Da cosa può essere spaventato Se non Dalle parti Dell'endoscheletro Per cui sicuramente L'endoscheletro L'avrà spaventato E compare Infatti In Five Nights at Freddy's 2 Adesso passiamo invece A Five Nights at Freddy's 3 Allora In Five Nights at Freddy's 3 Si può vedere Springtrap Con i phantom animatronici Allora Springtrap Ovviamente Si ispira Si ispira a Springtrap Che possiamo vedere Sullo show stage In Five Nights at Freddy's 4 E Dentro Springtrap C'è il Purple Guy Allora Adesso Parleremo un salto Le Purple Guy Appena Ho finito di parlare Di Springtrap Allora Springtrap Si ispira Allora Noi in Five Nights at Freddy's 4 Vediamo Il Purple Guy Sempre nel minigame Che Mette la maschera di Spring Bonnie Sopra Ad un Ad un impiegato Quindi Secondo me In questo caso Noi Essendo un bambino Come diceva L'indizio di Scott Coughton Che ha lasciato sul teaser Di FNAF World Prima che fosse completato Scriveva Quello Che viene visto Nell'ombra E sempre Facilmente frainteso Nella mente di un bambino Quindi secondo me Il Purple Guy Stava effettivamente Facendo Semplicemente Il suo lavoro Ovvero Quello di aiutare I veri impiegati A mettersi I costumi Però sto bambino Pensava forse Che il Purple Guy Era malvagio E insomma Rinchiudeva Delle persone Che non conosceva Instettute E quindi poi Visto che La bambina Gli aveva detto Che gli poteva Mordere il dito Springtrap Essendo molto più grande Poteva direttamente Schiacciare Tutto il corpo Di una persona Dentro al costume Collegamento logico Secondo me Quindi A sto punto Il bambino Inizia a pensare Che il Purple Guy Sia effettivamente Un nemico E in Five Nights at Freddy's 2 Insegue Gli animatronici Come sappiamo Insegue I Withered E dopo averli beccati Insomma Lo schermo Non si vede più niente E da qua Si potrebbe Presumere Forse Che Dallo show Fredburn Friends Il bambino Abbia visto I suoi amici Diciamo Venire distrutti Dal Purple Guy Perché il Purple Guy Forse Era E insomma Forse il Purple Guy Era il figlio Del fratello Del bambino Di Five Nights at Freddy's 4 E quindi vedeva Sia suo fratello Che il padre Del fratello Come nemici E quindi Questo è Quanto Adesso si passa Ai Phantom I Phantom animatronici Invece È un po' casino Spiegarli Perché I Phantom Sono effettivamente Bruciati Hanno la skin Proprio bruciata E questo Insomma Si può riconnettere Solamente Alle allucinazioni Quindi Dobbiamo tenerci Sulla trama Proprio Del gioco Per spiegare Insomma L'esistenza Dei Phantom Non è ancora ben chiaro Perché non ci sia Phantom Bonnie Di nessuna generazione Ma secondo me Ci sono Phantom Di varie generazioni Perché il bambino Era più spaventato Dall'una Che dall'altra generazione Questa è l'unica Spiegazione Che posso trovare Al momento Inoltre Come sappiamo In Five Nights At Freddy's 3 Può comparire Purple Freddy O Golden Freddy Che Essenzialmente Sempre per il motivo Di Five Nights At Freddy's 2 Che ho spiegato prima Adesso si può Finalmente passare A Five Nights At Freddy's 4 Che Avevo già spiegato Con Sakini E secondo me La teoria che ho fatto Con Sakini Può Ancora Venire presa in considerazione In questa teoria Quindi se non l'avete vista Vi consiglio di andarla A vedere Perché bisogna Collegarci proprio Con quella teoria In questa teoria Quindi Essenzialmente Abbiamo già spiegato L'esistenza Di tutti i Nightmare Animatronici E bom Tutti i minigames Vogliono significare qualcosa Allora Il minigame Di Balloon Boy Essenzialmente Come abbiamo detto prima Balloon Boy Era un amico Il migliore amico Possiamo anche dire Del bambino Di Five Nights At Freddy's 4 Quindi nel suo minigame Infatti Deve raccogliere Palloncini Che Erano L'oggetto Che lui preferiva Visto che Ne tiene proprio uno in mano Quindi Uno dei suoi oggetti Preferiti E deve raccoglierne Per riuscire A completare Il minigame Però Se lui esce fuori Dal quadrato In cui si trova dentro Entra tipo In una specie Di mondo demoniaco Che secondo me Rappresenta Quello che il bambino Effettivamente ha provato E quindi Vede tutte le cose In maniera spaventosa E che quindi Gli fa paura Tutto questo Vale anche per gli altri Minigames Di Five Nights At Freddy's 3 Quindi Tutti quelli di Five Nights At Freddy's 3 Infatti sono la roba che Tu esci dal Dal quadrato Ed entri nel mondo demoniaco Proprio perché Per la storia del bambino Che lui prima Viveva tranquillamente Vedeva questi personaggi Come suoi amici Poi E' successo Il piccolo incidente Delle morte dell'87 E vede tutti come nemici Brutali Immortali Insomma Sappiamo come è andata a finire E Invece Per i minigames Di Five Nights At Freddy's 2 Bisogna un po' concentrarsi Lo avevamo già Spiegato Insomma Il minigame Quello del Purple Guy Con i Witred Poi il Give Gifts Give Life Minigame E' quello in cui Il Puppet Ci Porta la vita Tutto E Quella è tutta Immaginazione Del bambino Però Come sappiamo Il Puppet E' un personaggio Un po' Un po' Misterioso Forse 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 Dovrò Tornarci In un'altra teoria Su Questo Argomento Ma comunque Diciamo Lasciamo da parte Un attimo Il Give Gifts Give Life Minigame Noi sappiamo Infatti Che Che in un altro Un bambino Fuori dal Ristorante Questo Fatto E' un po' Finanze Ferdice 2 Come un nemico mortale Secondo me Questo è perché Il Purple Guy Avrà visto Questo bambino Che non sapeva Cosa fare Avrà perso Magari i genitori E quindi Non sapeva Cosa fare Dove andare Si è messo a piangere E arriva il Purple Guy Che in realtà Forse lo porta via Lo porta via Lo porta in un'altra stanza Per aiutare Per aiutarlo Si A trovare i genitori Quindi secondo me Questa è l'unica Spiegazione possibile Però Il bambino Come abbiamo detto Vedendo il Purple Guy Come un nemico Già da Finanze Ferdice 4 Vede il Purple Guy Come insomma Avevo appena detto Un nemico E pensa che abbia Invece Portato via Questo bambino Per ucciderlo E poi viene Il Jumpscare del Puppet Quindi Quel bambino In realtà è il Puppet Che Il Puppet Non si sa bene Ancora da dove viene Abbiamo spiegato Anche Five Nights at Freddy's 3 Five Nights at Freddy's 4 E i minigames Diciamo Però C'è ancora Un grande dilemma E questa è Come mai Il bambino Conosce così bene Tutti e quattro I ristoranti Cioè tutti e tre Perché nelle quattro Siamo nella nostra stanza L'unica ipotesi è che In Five Nights at Freddy's 1 Diciamo La La mappa Si ispira un po' Alla camera Proprio del bambino Di Five Nights at Freddy's 4 Infatti abbiamo La porta A destra A sinistra Dobbiamo controllare Il letto E dobbiamo anche Guardare lo sgabuzzino Che sarebbe il Paret Cove Quindi più o meno Si assomigliano Diciamo E infatti Come avevo detto Prima In Five Nights at Freddy's 1 Diciamo Tutti Sono più amichevoli Diciamo Che negli altri giochi E proprio per questo fatto Il bambino Insomma Cerca di Immedesimarsi di più Nella Nella mappa Di Di casa sua Diciamo Per cui Pensa che la pizzeria Sia un po' come Casa sua In Five Nights at Freddy's 2 Il discorso è simile Perché abbiamo sempre La ventola A destra E a sinistra E dobbiamo guardare Il music box E dobbiamo anche però Prestare attenzione Al corridoio Davanti a noi Un po' Poco proprio Come Five Nights at Freddy's 2 Diciamo Che ha le due porte Il letto dietro E il closet Quindi i discorsi qua Un po' Possono somigliarsi Però Perché è proprio Il music box Allora In Nella versione di Halloween Di Five Nights at Freddy's 4 Sappiamo che Nightmare on Viene la notte 7 Un po' Al posto di Nightmare E ogni volta che si muove Fa un rumoretto Adesso non è ben chiaro Se Il bambino Abbia già sentito Prima questo rumore Ma penso proprio di si Visto che Nella pizzeria Di Five Nights at Freddy's 2 Bisogna ricaricare Il music box Con la musica Pop Goes The Weasel Per calmare il puppet Per cui Questa musichetta Lui deve averla Già sentita Perché come sappiamo Five Nights at Freddy's 2 In realtà Non è mai esistito E quindi Qua a sto punto Nel Fredbear Family Diner Può darsi che ci sia stato Questo diciamo Questo prototipo del puppet Non so bene come chiamarlo Che essenzialmente Magari sarà stato In sta stanza Con una musichetta In cui lavorava Un operaio Sul progetto Sto bambino Probabilmente L'avrà visto Con sta musichetta Se l'è ricordata E avrà inventato Questa meccanica Per insomma Calmare il puppet Adesso In Five Nights at Freddy's 3 Invece È un po' più complicato Perché la mappa È in realtà Il simbolo di Scott Couton Un po' al contrario Qua Può darsi che sia Soltanto un piccolo easter egg Oppure che Scott Non avesse calcolato Questo particolare Vabbè Lasciamo passare Diciamo Five Nights at Freddy's 3 Come sappiamo Un po' Five Nights at Freddy's 3 Ha deluso Un po' la gente Perché ci aspettavamo Molto di più Però vabbè Abbiamo ottenuto Quello che abbiamo ottenuto Adesso Five Nights at Freddy's 4 Invece è proprio Camera sua Con le due porte E il closet E il letto dietro Adesso Cosa molto importante Come mai Diciamo C'è proprio La data specifica E la paga Insomma Tutte le motivazioni Su I biglietti Che riceviamo Alla fine del gioco Allora Secondo me Qua entra Invece in gioco Il phone guy Perché Non abbiamo ancora Parlato di lui E da molto tempo Che non parliamo di lui Adesso con Five Nights at Freddy's 4 Ho visto che non c'era Tutti si sono dimenticati Dell'esistenza del phone guy Ma in realtà Lui è sempre là Perché in Five Nights at Freddy's 4 Effettivamente Ogni tanto Si sentono Delle tracce audio Che in realtà È la telefonata Della prima nota Della prima nota di Five Nights at Freddy's 1 Solamente Messa al contrario Quindi sembra un'altra roba Ma in realtà È solamente la chiamata Di Five Nights at Freddy's 1 Quindi Vuol dire che Il bambino Avrà conosciuto Il phone guy E visto che Visto che Me l'ha detto mio fratello Sta roba Che lui ha studiato All'università Sta roba Nei sogni Ci sono Diciamo Delle tracce Che ripercorrono La giornata Che O eventi passati Che si sono vissuti Quindi secondo me Il bambino Avrà sentito La telefonata Di Five Nights at Freddy's 1 Nella prima notte Perché Secondo me Il padre Del bambino Di Five Nights at Freddy's 4 Era effettivamente Il phone guy Perché aveva Questa voce familiare Anche se un po' distorta Nel sogno Però comunque Una voce familiare Che diciamo Cercava di calmarlo Allora Però c'è una data precisa Su ogni Su ogni biglietto Che riceviamo Alla fine Di ogni gioco Tranne il 4 Perché boh Però Queste date Effettivamente Potrebbero ricordare Che La data degli eventi In cui avviene ogni gioco Si sussegue Di qualche anno Perché Effettivamente Forse Questi Questi biglietti Potrebbero rispettare la verità Quindi una vera data Quindi in realtà Forse il bambino È stato in coma Per tantissimi anni E poi Quando effettivamente Deve scontrarsi Contro i Nightmare Non ce la fa più E muore alla fine Come sappiamo Alla fine del gioco Quindi secondo me Questa è l'unica Spiegazione Non è plausibile Per le date Dei vari Dei vari biglietti Inoltre In Five Nights at Freddy's 3 Neanche non riceviamo Un biglietto Perché come sappiamo Diciamo Il locale Viene bruciato E Springtrap Non si sa bene Se è morto Ma forse no Forse si Non è ancora ben chiaro Però non riceviamo Nessun biglietto Però non vuol dire Che siamo morti Perché se fossimo morti Effettivamente Non ci sarebbe stato Five Nights at Freddy's 4 Quindi secondo me In Five Nights at Freddy's 3 Noi bruciamo la pizzeria Che quindi Non ci dà la paga Perché è bruciata Ma noi siamo ancora vivi E infatti leggiamo il giornale Però vabbè Questo è un dettaglio Se noi ascoltiamo Effettivamente Il modo in cui terminano Tutte le notti In Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3 Sentiremo che c'è Un orologio molto simile Che suona Proprio gli orologi Quelli col pendolo Grandi diciamo E infatti In Five Nights at Freddy's 4 Se osserviamo la mappa Possiamo vedere Anche nei minigames Che alla fine Del primo corridoio C'è Un grande orologio A pendolo Ragazzi Quindi secondo me Il bambino Si sta infatti Immaginando proprio Questo orologio Che suona Per avvisarlo Che è scoccata L'ora in cui Può finalmente Svegliarsi Da questo incubo Quindi ragazzi Abbiamo coperto Tutti Gli elementi Che ci sono stati forniti In tutti i Five Nights at Freddy's E se ne ho dimenticato qualcuno Basta che me lo scrivete nei commenti E io farò tipo Una seconda teoria Più corta di questa Voglio sperare Per spiegare Questi elementi Che forse Potrei aver dimenticato Allora Sì allora Devo dire questa cosa Che in Five Nights at Freddy's 3 Golden Freddy O il Purple Freddy Non attacca Perché Non so esattamente Dirvi perché Ma L'unica L'unica cosa Che mi viene in mente In questo momento È che essendo un Shadow Quindi un'ombra Non può attaccarti Ma sta sempre là Solo per diciamo Mettere un po' di Tensione Secondo me Questa È proprio Tutta la vera storia Di Five Nights at Freddy's E alla fine Di Five Nights at Freddy's 4 Quando noi vediamo La scatola chiusa Dentro la scatola Secondo me Scott Ha nascosto Diciamo qualcosa Che ci avrebbe fatto capire Che tutti I giochi Sono in realtà Solamente Un sogno Del bambino Di Five Nights at Freddy's 4 Perché Lui come ha detto In un post di Steam Pensava che Rivelando la verità Avrebbe Lasciato Malissimo Molta gente E infatti Sapere che tutto È solamente un sogno Di un bimbetto Di 5 anni Non è proprio Diciamo Il massimo Come finale Di una serie Così interessante Però Vabbè Quindi ragazzi Questo era tutto quello Che potevo dirvi Per la prima Per la prima volta Che provo a terminare Tutta la storia di FNAF In una singola teoria E abbiamo risolto Diciamo La timeline Praticamente Però la storia Non è ancora ben chiara Proprio la storia Degli eventi Che viene raccontata Nei sogni Per cui Dovremmo fare O una teoria Molto grande O una live Con altra gente Su questo argomento Per risolvere Proprio la storia Che c'è Insomma Nel gioco Con tutti i minigames La storia che vuole raccontare Il gioco Praticamente Quindi ragazzi Questo era tutto quello Che potevo dirvi Per adesso E noi Ci rivedremo Nel prossimo video Nel prossimo video Nel prossimo video